In provincia di Chieti la ASL attiva uno spazio di ascolto a sostegno delle vittime del gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari. Il servizio, pensato per offrire aiuto qualificato a quanti hanno l'ossessione del gioco, è gratuito e garantisce il pieno anonimato. A presentarlo la responsabile provinciale Paola Fasciani. È uno spazio aperto a tutte le persone del territorio ma anche fuori dal territorio che in una maniera anonima, riservata e assolutamente gratuita possono incontrare e relazionarsi con professionisti che si occupano di gioco d'azzardo e da questi possono avere orientamento, accoglienza, ascolto e anche informazioni rispetto a un problema che può essere da lieve a grave diventare una patologia e come tale va trattata e gestita. Si tratta di una consulenza non solo psicologica e sociale ma anche legale ed economico-finanziaria per affrontare delle tematiche a cui porta il gioco d'azzardo estremamente gravi come per esempio il sovraindebitamento. Quindi è un servizio che viene attivato in queste ore serali per permettere a persone che stanno conducendo una vita attiva, sana, ancora integrata a chiedere aiuto prima che ancora questa vita si disgreghi mantenendo le loro occupazioni, le loro attività e curandosi e aiutando a curare i propri ungiunti, i propri cari quando è possibile, prima possibile. Lo sportello sarà attivo da lunedì 20 gennaio nelle sedi del CERD di Lanciano, Vasto e Chieti, da lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 20 e il sabato dalle 11 alle 13.